Mosca rivendica il bombardamento di ieri su Kiev durante la visita del segretario delle Nazioni Unite Guterres. Abbiamo distrutto con i missili di alta precisione fabbriche di armi e un sito dell'industria spaziale, ma l'attacco avrebbe colpito anche un palazzo causando un morto e dieci feriti, pianificata per oggi dalle autorità ucraine l'evacuazione dei civili dall'acciaieria di Mariupol. I missili su Kiev sono stati un tentativo di umiliare l'ONU, afferma Zelensky. Intanto, dopo il Senato, anche la Camera statunitense ha approvato la norma che consentirà a Biden di fornire rapidamente armi e aiuti all'Ucraina. Ieri il Presidente degli Stati Uniti aveva chiesto al Congresso altri 33 miliardi di dollari da destinare a Kiev. Pechino si dice preoccupata per la ripresa da Covid e guerra, rischi e sfide per l'economia. Se conodi conta l'invio di armi letali in Ucraina, nel timore, dice il leader dei Cinque Stelle, di un'escalation militare che significherebbe ulteriori sofferenze carneficine. Sulla stessa lunghezza d'onda, Salvini, più armiamo una parte, più la pace si allontana. Intanto, ieri il COPASI ha appoggiato la decisione del governo di secretare l'elenco delle armi da mandare a Kiev. Dopo quattro trimestri di crescita sostenuta, l'Istat conferma il calo dello 0,2% del prodotto interno lordo nei primi tre mesi dell'anno, ma il dato è migliore rispetto alle previsioni fatte dal governo. Ad aprire rallenta l'inflazione, che resta comunque ai massimi dal 91%, attestandosi al 6,2%. Da domenica si volta pagina, archiviato il Green Pass, resta però fino a 15 giugno l'obbligo di mascherine nei trasporti, al cinema, a teatro, ospedali e case di riposo. Nei posti di lavoro decideranno le aziende, il ministro della Salute e Speranza invita comunque alla prudenza. La pandemia è ancora in corso e bisogna insistere con la campagna vaccinale e con l'utilizzo delle mascherine in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio. All'Ester buon pareggio per la Roma nella semifinale di andata di Conference League in vantaggio con Pellegrini, giallorossi, si sono fatti raggiungere dagli inglesi nella ripresa. Tra sei giorni all'Olimpico la gara di ritorno che può valere l'accesso in finale. Murigno conta sulla spinta del pubblico, previste 70.000 persone. Buongiorno, benvenuti al Tele giornale da 7. All'indomani del lancio di missili rivendicato da Mosca su Kiev, la situazione resta davvero molto difficile. Questo lancio è avvenuto in concomitanza con la visita del segretario delle Nazioni Unite Guterres. Ha colpito, secondo Mosca, delle postazioni militari, ma di certo c'è che a morire è stata anche una donna, una giornalista di Radio Svoboda, ovvero Radio Libera. Un attacco, dunque, questo che arriva nei giorni in cui nella capitale ucraina si tentava una sorta di ripartenza. Comunque lo sforzo bellico russo si concentra ancora nella parte sudorientale del paese, a partire da Mariupol, dove proprio oggi si tenta un'evacuazione dei civili intrappolati nell'acciaieria Azovstal. Mosca avanza nel Donbass, è stata costretta ad ammetterlo anche l'intelligence britannica. Il Pentagono parla di attacchi meglio coordinati, effettuati con un minor numero di soldati e l'ausilio di una forte copertura aerea. Le direttrici rimangono le stesse, quella a destra per completare la presa delle terre russofone, quella verso sud fino ad Odessa per escludere l'Ucraina dall'accesso al mare. Nella notte i bombardamenti sono continuati su diverse aree del paese. Il primo ieri, proprio mentre a Kiev era in visita il segretario generale dell'ONU Gutierrez, la Russia ha confermato l'attacco con armi ad alta precisione, obiettivo secondo Mosca agli edifici del produttore ucraino di equipaggiamenti e armi aeronautiche Artyom. Per Kiev invece sarebbe stato centrato un edificio residenziale. Secondo il sindaco della città Glischko ci sarebbero 14 feriti ed un morto la giornalista di Radio Svoboda, Vera Ghiric. A Donetsk è stato invece colpito un deposito di carburante ed alcune centrali inelettriche. Mosca ha denunciato l'abbattimento di un drone ucraino vicino al confine con la Russia. Secondo il Ministero della Difesa in tutto sono stati centrati 13 verivoli senza pilota in diverse zone, compresa la regione di Zaporizia. Parallelamente con colpi di mortaio le forze di Kiev hanno attaccato due punti di frontiera, il primo nella regione di Kursk e il secondo nella regione di Bryansk. L'ufficio di presidenza ucraino ha fatto invece sapere che oggi è stata pianificata un'operazione per evacuare i civili dall'acciaieria Azov-Stalla-Mariupol. Al momento non ci sono dettagli, in passato annunci simili non hanno portato a risultato sperato. Dentro lo stabilimento siderurgico, in una lunghissima rete di cunicoli, sono asserragliati i soldati della 36esima brigata. Insieme a membri del famigerato battaglione Azov e centinaia di civili, in condizioni sempre più disperate, dopo che le forze russe hanno duramente colpito con intensi bombardamenti, nell'area di guerra si registra anche la morte di un altro occidentale, un contractor americano ex-marin di 22 anni, Willie Joseph Kansel, ucciso mentre combatteva per le forze ucraine. La BBC infine annuncia che ci sarebbero due cooperanti britannici fermati ad un posto di blocco a Zaporizia e catturati dalle truppe russe. Una continua scadescio militare che non lascia alcuno spazio al negoziato. L'Ucraina e Zelensky continuano a chiedere armi per potersi difendere dai russi e gli Stati Uniti innanzitutto continuano a dargliele. Questa notte il presidente Joe Biden ha ottenuto prima dal Senato e poi anche dalla Camera altri 33 miliardi di dollari da destinare in armamenti, aiuti economici e poi in piccola parte 3 miliardi di dollari agli aiuti umanitari. Solo 10 voti contrari contro 417 a favore hanno segnato la decisione della Camera statunitense distanziare non solo un'ulteriore ragguardevole cifra per sostenere il conflitto in Ucraina, circa 33 miliardi di dollari, ma soprattutto la possibilità per il presidente Biden di assumere in futuro decisioni simili, con rapidità anche maggiore. Il voto di questa notte, il presidente Zelensky dal canto suo ha immediatamente ringraziato, il voto di questa notte, dicevamo, permette infatti di usare una vecchia norma del 1941 che concesse agli Stati Uniti di armare l'esercito britannico contro Hitler, sperando tuttavia che questa volta non ci aspetti una nuova guerra mondiale. Comunque, di questi 33 miliardi, 20 andranno genericamente alla voce difesa, ovvero armi, 8 per il sostegno economico del paese e 3 per gli aiuti umanitari. Gli Stati Uniti erano già determinati in questo senso, del resto il Senato aveva già dato il via libera, ma sicuramente nella partita ha giocato molto anche lo shock prodotto dal bombardamento di Kiev durante la visita del segretario generale dell'ONU Guterres, il quale Guterres all'indomani appunto della sua visita a Kiev, lo aveva detto chiaramente, mai si sarebbe aspettato questa reazione da Mosca, dove peraltro era stato ricevuto da Putin solo 48 ore prima. E non solo per quello, ma perché, ha detto Guterres, Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi. Unanime condanne anche dalla comunità internazionale, questo ad esempio, è solo l'ultimo tweet in ordine di tempo da parte di un ministro degli esteri e arriva dalla Francia. Così come da parte dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, Borrell, la Russia dimostra ancora il suo sfacciato disprezzo per il diritto internazionale, ha detto. Preoccupazione poi viene segnalata dal Vaticano, per bocca del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, con una sottolineatura importante. Non entro nel merito delle decisioni che i paesi hanno preso per l'invio di armi all'Ucraina, che come nazione ha diritto di difendersi dall'invasione subita, ha detto l'altissimo prelato, ma inviare armi non basta, è una risposta debole. Bisogna rafforzare gli organismi internazionali e ritrovare una maggiore capacità di iniziativa europea. Non facile, evidentemente, anche perché Mosca, come è noto, ha rivendicato il lancio di missili su Kiev e non sembra al momento voler rinunciare al proposito non solo di conquistare il Donbass, ma di larga parte dell'Ucraina del Sud, mobilitando per la propria propaganda ogni mezzo possibile. Questa foto è stata scattata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il gagliardetto che vedete riproduce il cosiddetto stendardo per la vittoria, quello stesso che tre soldati dell'armata sovietica hissarono sul Reichstag il primo maggio del 1945. Oggi, a metterlo sulle strutture spaziali, sono stati i cosmonauti Oleg Artemijev e Denis Matveje. Alla base di Mosca hanno applaudito. A questo punto del conflitto, dopo oltre 60 giorni, appare piuttosto chiara la volontà di Mosca di annettersi non solo quelle regioni filorusse, oggetto di contendere, di guerra ormai da diversi anni, ma un po' tutta la parte sudorientale del paese, dunque togliendo di fatto tutti gli sbocchi al mare all'Ucraina. Ecco dunque che in una città storica come Odessa si vivono delle ore comprensibilmente di grande preoccupazione. Allora noi ci colleghiamo subito con Paola Mascioli che proprio lì si trova. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti da Odessa, una città che vive con grande preoccupazione e attesa a quello che potrebbe accadere. Potrebbero arrivare i russi da diversi punti, potrebbero arrivare soprattutto dal mare, potrebbero arrivare dal terra. Questa città in queste ore sta cercando di fare i conti con quello che può accadere. È una città dove in media 4-5 volte durante la mattinata e poi nel pomeriggio si sentono i colpi della contraerea, quindi vuol dire che dal mare vengono lanciati dei missili, ma apparentemente le persone, quelle che possono, cercano di fare la loro vita e procurarsi in queste ore la benzina e il carburante. Sono stati razionati, non ne sta arrivando più molto. La città è piena di distributori che sono chiusi perché non hanno più nulla e quelli che sono più grandi, che sono ancora aperti, hanno delle file chilometriche, c'è un'attesa di ore per poter arrivare al proprio turno e poter finalmente avere 20 litri di benzina, non una goccia di più. Il diesel poi viene ancora di più razionato perché serve per le macchine agricole e per i carri armati, ovviamente. Quindi questa è un po' la situazione di una città senza benzina, con i negozi che chiudono presto, una parte già chiusa, un coprifuoco che scatta tutte le sere e i rumori che arrivano della contraerea che intercetta i missili che vengono sparati dal mare. E poi c'è quell'altro fronte, il fronte terrestre, del pericolo che potrebbe arrivare dalla transinistria, scusate dove è notizia di oggi, diversi paesi dagli Stati Uniti al Canada, Israele, Bulgaria, Francia hanno chiesto ai propri concittadini che si trovassero in luogo di lasciare immediatamente il paese. Il governo locale ha imposto a tutti gli uomini di non lasciare il paese, il che significa che potrebbero essere utilizzati per le armi. Il punto è sempre un punto interrogativo, quello su quella striscia di terra, però è un punto interrogativo che potrebbe diventare una lancia puntata contro Odessa. Noi siamo qui e ve lo continueremo a raccontare. Grazie, grazie molto Paola Mascioli. La decisione di inviare armi in Ucraina fa molto discutere, crea malumori all'interno della stessa maggioranza di governo, soprattutto nelle fila del Movimento 5 Stelle. In più fa anche discutere la decisione del governo italiano di non diffondere, di non rendere pubblica la lista di quali armi stiamo inviando in quel paese. Giuseppe Conte insiste almeno a parole sul no del Movimento all'invio di armi letali in Ucraina. Un'escalation militare significherebbe ulteriori sofferenze carneficine, dice. Ammette il leader 5 Stelle che non è questione di tipologia di armamento, se è quello di difendersi o contrattaccare. Per il resto smentisce ogni simpatia con il filo russo politologo Orsini e assicura di lavorare per far decadere dal suo ruolo. Il filo russo presidente della Commissione Estere, Vito Petrocelli. Anche se ieri l'unico senatore a non firmare la lettera con la richiesta di destituzione alla presidente Casellati è stato l'altro grillino, Alberto Irola. Contraddizioni e ambiguità che non hanno avuto eco nella riunione del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, dove il ministro della Difesa Guerini ha illustrato il decreto già operativo di invio di armi all'Ucraina, elencando nella tipologia, riunione a cui è seguita la decisione unanime di secretare l'elenco. Le resistenze di Conte possono essere lette anche in chiave anti Di Maio. Lo stesso ministro degli Esteri 5 Stelle ha firmato il decreto per l'Ucraina e dice di lavorare per una soluzione diplomatica, ma aspettando segnali da Putin. Non c'è la minima sicurezza che fermando il supporto all'Ucraina la Russia si fermi. È da evitare, se schiera Di Maio, la facile retorica. È il momento di operare. Guardando l'obiettivo di fare bene e non di prendere uno o due voti in più, ammette poco fa di soffrire le posizioni 5 Stelle e qualche difficoltà interna con le anime più pacifiste della sinistra. Il segretario del PD è Enrico Letta. Mi fido del governo, conferma Letta. La pace è obiettivo di tutti. I distingui dal sapore pacifista arrivano di nuovo anche da Matteo Salvini. Più armiamo una parte, più la pace si allontana. Spero che il mese di maggio, che è il mese della Madonna, porti la pace. Posizionamenti anche elettorali. Per il capo della Lega, funzionario al duello sempre aperto con Giorgio Meloni. La presidenta di Fratelli d'Italia, più filo atlantica di Salvini in questa fase e primo partito nei sondaggi, oggi apre la conferenza programmatica proprio a Milano. Stamattina ha partecipato alla cerimonia di ricordo di Sergio Ramelli, militante di destra, ucciso a 18 anni nel 75 da estremisti di sinistra. Presente il sindaco Sara, che con un gesto di riconoscimento importante porterà il saluto della città anche nel pomeriggio. E la guerra, come tutte le guerre, ha sempre delle motivazioni anche economiche, dunque delle conseguenze che per l'Europa sono molto gravi. Cioè, innanzitutto, tutta la questione dell'importazione di petrolio e gas dalla Russia. L'Italia, insieme alla maggior parte dei paesi europei, continua a farlo. Però, insomma, potrebbe esserci a breve, di concerto con l'Unione Europea, anche un embargo se i russi dovessero richiedere, come dicono, il pagamento in rubli. Tuttavia, gli effetti, insomma, già li vediamo ogni giorno. L'aumento dei prezzi al consumo e anche lo stallo del prodotto interno lordo. Gli effetti negativi sull'economia italiana dell'aggressione russa in Ucraina cominciano a farsi vedere nei conti nazionali. Dopo quattro trimestri di crescita sostenuta, nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo infatti è sceso. Precisiamo che queste sono stime preliminari, passibili quindi di correzioni e breve. È sceso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale il PIL è cresciuto del 5,8%. Un risultato comunque superiore, va detto, rispetto alle stime del governo. Ora, il primo trimestre ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre dell'anno passato. Ma la diminuzione è comunque la risultante di due fattori. Da un lato un aumento del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e dall'altro una riduzione nel comparto dei servizi, combinata ad una stazionarietà dell'industria. Se rimane positivo il contributo della domanda di beni da parte di compratori italiani, si registra un apporto negativo della componente estera netta, indice che il Made in Italy comincia a risentire delle sanzioni. Anche l'inflazione, di nuovo parliamo di dati preliminari, risente degli effetti della guerra. Ad aprile si attesta al 6,2%, ai massimi da settembre 1991, a causa della fiammata dei prezzi energetici, che si riverberano sul costo dei trasporti e tramite questi cominciano a diffondersi anche ad altri beni, soprattutto ai cosiddetti alimentari lavorati. In realtà, ad aprile si registra un lieve rallentamento dello 0,2% frutto delle misure del governo sulle accise per contrastare appunto il caro carburanti. Quello del petrolio e del gas è il tema cruciale delle prossime settimane, soprattutto in previsione di un possibile embargo europeo alle forniture russe dopo la decisione di Putin di bloccare i flussi a Polonia e Bulgaria. Diversificare è la parola d'ordine delle compagnie energetiche nazionali. Giusto oggi, presentando i risultati trimestrali positivi oltre le attese, l'amministratore delegato di Enide, Scalzi, ha confermato gli accordi raggiunti di recente con Algeria, Egitto, Congo, Angola, che vanno ad aggiungersi al gas norvegese tramite la società AVR Energy, di cui, dopo la quotazione, Enide tiene il 64%. Ecco, proprio in questo momento è uscita un'agenzia che arriva dalla Germania, Berlino, si dice pronta a embargo del petrolio, anche se sarebbero meglio delle alternative. Dunque, come vi dicevamo, insomma questa questione sta diventando sempre più dirompente ed evidentemente argomento di discussione e decisione immediata. L'Assemblea degli azionisti di assicurazioni generali riunita in modalità virtuale ha confermato l'amministratore uscente Philippe Donnet alla guida del principale gruppo assicurativo italiano con quasi il 60% delle preferenze. È uscita quindi perdente la sfida dell'immobiliarista Francesco Gaetano Caltagirone che, assieme al patron di SILUX, Leonardo Del Vecchio, aveva cercato di contrapporre, assieme ad altri soci, un candidato alternativo al francese Donnet. Insomma, questo per quanto riguarda i grandi asset azionari, le grandi imprese internazionali, ma lavoro significa anche e soprattutto persone che ogni giorno vanno per guadagnarsi lo stipendio, per esempio su dei cantieri edili, talvolta senza le necessarie protezioni, oppure vanno in fabbrica dove sono costretti a lavorare su macchinari non a norma o addirittura manomessi, come purtroppo abbiamo visto nella cronaca recentissima. Insomma, le morti sul lavoro sono davvero una strage nel nostro paese, non si ferma. Nelle ultime ore hanno perso la vita ben tre persone, l'ultimo a Milano questa mattina, ma ieri a Roma era successo lo stesso per due giovani persone. Il tema è molto caro al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sceglie l'istituto professionale Bearsi di Udine, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, il Presidente Sergio Mattarella, per ricordare le tante e troppe morti sul lavoro. L'ultima proprio questa mattina, un operaio di 58 anni è rimasto intrappolato in un tornio in un'azienda nel milanese. Lontano dalle telecamere, Mattarella incontra i genitori e la sorella di Lorenzo, il 18enne morto tre mesi fa nel suo ultimo giorno di tirocinio in fabbrica, alla fine di un percorso tra scuola e lavoro. Una morte impossibile da accettare, una ferita profonda che lo stesso Capo di Stato ha ricordato nel suo discorso di insediamento. Mattarella visita i laboratori e le varie sezioni dell'istituto. Nelle officine si intrattiene con gli studenti e i compagni di Lorenzo, che mostrano come funzionano i macchinari industriali che utilizzano per imparare il mestiere. Un lavoro complesso, occorre dimestichezza e padronanza, dice il Presidente. Lorenzo era molto bravo a scuola e amava fare tirocini in fabbrica, ricorda un compagno di scuola. Poi le parole del Capo dello Stato, che ha voluto anticipare qui, la festa del primo maggio, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga, affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. La sicurezza, i luoghi di lavoro, è un diritto, una necessità, assicurarla è un dovere inderogabile. Di lavoro si continua a morire. Solo tra gennaio e marzo sono state 189 le vittime, un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, come emerge dai numeri diffusi ieri dall'Inail nella giornata mondiale e della sicurezza sul lavoro. Crescono anche gli infortuni e i dati mostrano che sono aumentate anche le morti di lavoratrici da 14 a 24. E a fronte di tante persone oneste che fanno di tutto per lavorare magari con dei salari molto simili a quello che è il reddito di cittadinanza, c'è chi invece truffa. Lo hanno fatto 400 persone per due anni che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per un danno allo Stato di oltre 3 milioni di euro. Quasi tutti sono residenti nel popoloso quartiere Librino di Catania. A scoprirlo sono stati carabinieri con l'aiuto dell'Inps. Quasi 200 gli indagati hanno precedenti penali, molti anche per mafia. Tra le irregolarità più frequenti hanno dichiarato falsamente di essere gli unici componenti del nucleo familiare, mentre invece avevano familiari che lavoravano. Oppure hanno indicato residenze fittizie come negozi, aree di campagna o addirittura, pensate, penitenziari. Ora torniamo a parlare di Covid perché sono state decise dal Governo delle nuove misure di allentamento. Entreranno in vigore il prossimo primo maggio, domenica. Dunque la mascherina non sarà più obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, però bisognerà continuare a portarla in alcuni come i cinema, per esempio le scuole. E questo perché il virus continua a circolare in modo sostenuto e bisogna mantenere ancora per un po' la massima prudenza. Da domenica prossima non si dovrà più esibire il Green Pass. Le mascherine al chiuso invece restano ma solo in alcune circostanze. Quando si viaggia in nave, aereo e treno o si utilizzano in mezzi pubblici, quando si andrà al cinema o a teatro, nei palazzetti dello sport o negli ospedali o in visita a un anziano parente in una RSA. Questa almeno fino al 15 giugno. Anche i ragazzi in classe dovranno utilizzarle. La scuola non è stata infatti contemplata nella nuova ordinanza e rimangono quindi le regole stabilite nel decreto ancora in vigore. Di conseguenza gli studenti dovranno indossare le mascherine fino alla fine dell'anno scolastico. Negli uffici invece nel settore privato sono in vigore i protocolli firmati con i sindacati e con Confindustria e quindi dipenderà dalle decisioni delle varie aziende. Nel settore pubblico il ministro Brunetta sta preparando un'ordinanza con cui chiederà alle varie amministrazioni di usare il buonsenso. Nei posti in cui si applicheranno le normali regole sanitarie quindi distanziamento e finestre aperte le mascherine potranno anche non essere utilizzate. Anche nei supermercati dal punto di vista normativo ha detto questa mattina il sottosegretario della salute Costa non esiste più l'obbligo di utilizzo della mascherina ma anche qui tutto dipenderà dal protocollo della singola azienda che potrà decidere cosa fare. In molti casi saranno gli italiani a regolarsi ha commentato anche l'altro sottosegretario della salute Sileri sempre molto prudente invece il ministro della salute Roberto Speranza con le decisioni assunte ieri ha detto continuiamo il nostro percorso di gradualità consapevoli che la pandemia è ancora in corso e quindi occorre un percorso prudente bisogna insistere con le vaccinazioni e con l'utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio. Dal primo maggio anche il Green Pass non sarà più utilizzato unica eccezione riguarda le professioni sanitarie nelle RSA e negli ospedali intanto arrivano gli ultimi dati settimanali sulla pandemia cala leggermente l'indice di trasmissibilità in Italia questa settimana è a 0,93 era 0,96 sette giorni prima sale lievemente invece l'incidenza ogni 100.000 abitanti a 699 era a 675 si allenta la pressione negli ospedali il tasso di occupazione nelle terapie intensive è sceso a 3,8% era a 4,2 cala anche nelle parti ordinari al 15,6% era al 15,8 radicalmente diversa la situazione in Cina dove per raggiungere il contagio zero Pechino ha messo in lockdown 46 città e oltre 350 milioni di persone Un rinnovato impegno per superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi economici sono due le sfide che allarmano non poco il partito comunista cinese da una parte il contrasto alla ripresa dei contagi covid che ha costretto Shanghai 30 milioni di abitanti e altre 46 città del paese a lockdown dall'altra la guerra in Ucraina minacce reali per l'economia del dragone così il governo del presidente Xi Jinping questa mattina dopo la riunione del Poliburo annuncia come intende di affrontare questo scenario le immagini del porto di Shanghai principale scalo marittimo mondiale il lavoro a rilento i container impilati su un'area grande come una cittadina è una delle immagini simbolo della strategia zero covid imposta dal governo cinese il tentativo è quello di provare a identificare quanto prima i casi positivi isolarli per ridurre la diffusione del virus in un paese vaccinato poco e male i nuovi casi sono 5.646 di questi 5.487 solo a Shanghai il 90% dei nuovi casi sono tutti asintomatici 52 i nuovi decessi 46 città della Cina sono attualmente in stato di lockdown totale o parziale da oggi ad esempio nella città orientale di Yangzhou saranno fatti tamponi molecolari ogni 48 ore ai residenti per avere via libera all'accesso nei luoghi pubblici disposti 10.000 punti sparsi per il test a disposizione delle oltre 12 milioni di abitanti l'obiettivo sarebbe quello di non replicare questo modello anche su Pechino chiudere anche la capitale avrebbe effetti pesanti anche sull'immagine di Xi Jinping nelle stime di esperti analisti di diversi gruppi bancari è stato calcolato come le province colpite dalle restrizioni rappresentano l'80% del PIL cinese un rischio economico pesante per la crescita della Cina UBS tra le principali banche europee ha previsto un taglio sul PIL cinese per il 2022 dal 5% al 4,2% Li Keqiang primo ministro cinese a inizio marzo aveva parlato di una crescita anno del 5,5% il più basso degli ultimi 30 anni sembra di sapo camorristi con l'agguato di questa notte a Napoli dove sono stati uccisi uccise due persone due ragazzi giovani in pieno centro due morti ammazzati giovanissimi è il tragico bilancio dell'ennesimo agguato a colpi di arma da fuoco nel napoletano che si è consumato nella centrale via Leonardo da Vinci secondo una prima ricostruzione dei carabinieri a luna e mezza della scorsa notte ad Acerra due giovani di 21 e 22 anni sono stati avvicinati da uno o più sicari armati che hanno sparato nel mirino Vincenzo Tortora già noto alle forze dell'ordine ferito da tre colpi di cui uno alla testa e Pasquale di Balsamo il più giovane ferito in varie parti del corpo trasferito a Villa dei Fiori è deceduto poco dopo il ricovero Tortora sottoposto ad un intervento chirurgico nell'ospedale Cardarelli di Napoli è morto in mattinata indagano i carabinieri del comando provinciale di Napoli e di Castello di Cisterna per far luce sul duplice omicidio che per le modalità non lascia dubbi sulla matrice camorristica anche se sulla dinamica gli investigatori non possono ancora escludere un'altra ricostruzione i due forse potrebbero aver sparato l'uno contro l'altro gli inquirenti stanno interrogando parenti e amici di entrambe le vittime per accertare il movente e identificare i responsabili che appartenrebbero a clan di Camorra della zona l'agguato potrebbe essere maturato nell'ambito della lotta tra organizzazioni criminali rivali che per i traffici illeciti si avvalgono di giovani leve si registra una recrudescenza della criminalità a Napoli e provincia dopo un periodo di relativa pace tra clan durante la fase più acuta della pandemia e del lockdown l'ultimo omicidio a Pasqua vicino allo stadio Maradona un uomo ucciso con 8 colpi di pistola si trattava di un 25enne con precedenti per droga e agli episodi di Camorra si aggiungono quelli di microcriminalità nell'ultime settimane si sono registrati accoltellamenti ad opera di baby gang armate mafia che a sud come al nord Italia trovano terreno fertile nelle persone più ai margini della società per fortuna ci sono le associazioni il mondo dell'associazionismo italiano tanto generoso sia quello cattolico che laico che dà un contributo importantissimo e fondamentale per la legalità basti pensare alle tantissime persone che ogni giorno fanno la fila a Milano al pane quotidiano per ottenere un passo si tratta di italiani di migranti e adesso anche di donne ucraine loro sono da Irpin una delle zone peggiori si sono venuti un mese fa io ho fatto ospedalità e la mia amica di infanzia è così vuole tanto tornare a casa però è adesso ancora pericoloso per questo aspettiamo speriamo che tutto finirà amiche ma anche le madri che erano già qui in Italia a lavorare sono state raggiunte dalle figlie e i nipoti scappati dall'Ucraina ogni mattina da quasi due mesi si mettono in fila anche loro davanti alla sede milanese dell'associazione pane quotidiano per un sacchetto con dentro pane pasta frutta e cioccolato noi arriviamo parecchi giorni a superare anche i 4.000 sacchetti vuol dire 4.000 ospiti che purtroppo si mettono in coda ogni mattina dalle 7 per ricevere un sacchetto di cibo credo che ci saranno ogni giorno circa 200 almeno nuovi ospiti ucraini che vengono con i propri figli sono la nonna ma lei era già qui sì ero già qui perché sono partita prima per lavoro diciamo che le nostre file sono aumentate questo prescindere dai profi ucraini effettivamente sono aumentate si percepiscono persone che prima arrivavano a stento alla fine del mese adesso non ce la fanno più persone quindi che hanno dovuto mettere un po' l'orgoglio sotto i piedi e quindi mettersi in fila il pane quotidiano alcune donne ucraine raccontano che il cibo lo spediscono ai mariti o padri rimasti a combattere durante la pandemia le code erano aumentate sono sempre di più gli italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e ai quali circa 150 volontari come Claudio preparano quello di cui chi viene qui ha bisogno in coda silenziosi spesso con un po' di vergogna ci sono stranieri ma anche italiani che vengono da anni sono in pensione dopo ho scoperto un amico mi ha detto guarda vieni lì che c'è un grande aiuto e pian piano adesso sono 7-8 anni anche 9 e vengo qua per aiutare le vittime civili della guerra in Ucraina io vi ricordo la nostra sottoscrizione la 7 insieme al Corriere della Sera dove potete fare una donazione vedete in sovraimpressione l'Iban lo potete leggere e anche appuntare o forse fotografare con il telefonino in basso c'è il codice beneficiario che evita le commissioni vi ricordo anche alle 17 lo speciale del nostro direttore Enrico Mentana prima della breve pausa pubblicitaria ancora una notizia il direttore di Frontex che è l'agenzia dell'Unione Europea della Guardia di Frontiera Fabrice Légeri si è dimesso una decisione arrivata dopo un'indagine da parte dell'Olaf l'ufficio europeo antifrode sulla sua gestione da anni diversi parlamentari europei criticavano l'operato di Légeri in particolare per il presunto ruolo di Frontex nei respingimenti attuati dalle autorità greche proprio ieri la ONG tedesca Sea Watch aveva presentato una denuncia alla Corte Europea di Giustizia proprio contro Frontex per la presunta mancata trasparenza nella gestione dei soccorsi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo le notizie sportive ed anche se ci sono degli aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora ripartiamo dallo sport e dal calcio nella semifinale di andata della Conference League la Roma torna da Leicester con un pareggio per 1 a 1 che rimanda alla gara di giovedì prossimo all'Olimpico la qualificazione per la finale di Tirana quale miglior cosa che festeggiare un pareggio preziosissimo brindando con un buon bicchiere di vino se poi a offrirtero il collega avversario con cui condividi un'amicizia ventennale può uscirne un divertente siparietto mi ha dato il miglior vino sul mercato ed è stato anche molto caro la risposta di Brandon Rogers entrambi giovedì prossimo saranno nuovamente di fronte per decidere chi tra Roma e Leicester il prossimo 25 maggio allo stadio di Tirana giocherà la finale di Conference League la UEFA deve stare molto contenta perché questa competizione che tanti pensavano che sarebbe una competizione minore si dice no? minore è diventato questo questa semifinale è più una semifinale di Europa League che una semifinale di Conference League il gol con cui Capitan Pellegrini aveva gelato dopo un quarto d'ora il King Power Stadium su imbeccata del giovane Zaleschi in assoluto il migliore tra i giallorossi ha scombinato i piani degli inglesi ma è qui che la Roma ha severamente applicato i dettami tecnici del suo allenatore tutti Ebran compreso a protezione della propria area con Rui Patricio che non ha mai corso seri pericoli sul lungo assedio del Leicester e solo una disattenzione della coppia ai bagni e smancini sino a quel momento impeccabile ha consentito a Leicester di pareggiare senza però far correre agli ospiti ulteriori pericoli sino al fischio finale Dopo il loro gol si poteva pensare entriamo adesso in un periodo di gioco dove loro vanno a creare a creare a creare è finito lì non è che negli ultimi minuti siamo stati in difficoltà Questo 1-1 sembra poter agevolare i piani della Roma in vista del ritorno di giovedì prossimo quando allo stadio olimpico potrà contare sull'appoggio di oltre 60.000 tifosi E nel fine settimana torna il campionato con la quart'ultima giornata a due mese dal termine tutti i verdetti sono ancora in discussione Volata a scudetto ma anche corsa alla salvezza sarà un weekend importante per il nostro campionato che vive soprattutto del testa a testa tra le due milanesi per il titolo Lo stop di Bologna non ha piegato l'Inter che parola di Simone Inzaghi ci crede ancora e sulla carta può forse contare su un calendario più agevole rispetto ai cugini Il Milan vola però sulle ali dell'entusiasmo e domenica alle 15 affronterà in casa una fiorentina che ha mostrato un bel gioco nel corso della stagione ma che è uscita ridimensionata dalle ultime partite Poi Verona Atalanta e Sassuolo negli ultimi 270 minuti per Ibra Imovic e compagni che potranno permettersi anche di pareggiare una delle ultime quattro partite in virtù del vantaggio negli scontri diretti Sarà un primo maggio delicato per l'Inter che alle 18 sfiderà in trasferta all'Udinese autentica rivelazione di questo finale di campionato soprattutto in materia di gol segnati Poi sul cammino dei Nerazzurri Empoli Cagliari e Sampdoria con le ultime due indischiate in zona retrocessione e quindi bisognose di punti calendario a parte sarà una volata che può riservare sorprese come anche in coda alla classifica si comincia con gli anticipi di domani dove spicca il derby della lanterna diventato numeri alla mano crocevia per la salvezza Genoa quota 25 Samp a 30 con i tre punti in palio che possono cambiare prospettiva al rush finale come dimostrato dalla Salernitana rientrata in corsa quando sembrava spacciata nella stessa ottica anche il Cagliari domani in casa contro il Verona dovrà fare punti pesanti trovandosi ad oggi appena più tre sopra la soglia della Serie B meno pressione per il Napoli al Maradona col Sassuolo fuori dalla corsa al titolo la squadra di Spalletti dovrà ormai soltanto galleggiare fino alla fine per mantenere un posto in Champions per il prossimo anno domani in serata si affronteranno Spezia e Lazio con i Liguri che vogliono blindare la salvezza mentre la squadra di Sarri continua a contendere alla Roma un posto in Europa League come del resto l'Atalanta che lunedì chiuderà la 35esima giornata ospitando la Salernitana tornata di prepotenza in corsa per non retrocedere Prima di concludere abbiamo ancora tempo per un breve aggiornamento arriva dal Pentagono il portavoce John Kirby dice Vladimir Putin non dovrebbe essere invitato al G20 va isolato la Russia deve pagare le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo in Ucraina Kirby inoltre dice chiediamo agli americani di non andare in Ucraina è una zona di guerra se volete sostenere questo popolo ci sono altri modi e questo anche nel senso di non andare a combattere in Ucraina questo è l'ampio capitolo dei Foreign Fighters vi ricordo alle ore 17 il consueto speciale del nostro direttore Enrico Mentana sulla guerra adesso do la linea a Tiziana Panella e a Tagadà grazie ancora per essere stati con noi arrivederci a domani a we ho a Grazie a tutti.